La ripresa economica a settembre si prospetta complicata a causa della situazione geopolitica, la riflessione dell'economista Gianni Lepre. La ripresa a settembre si prospetta di grandi difficoltà per famiglie e per imprese. C'è bisogno di aiuti istituzionali, però, attenzione, il governo non può pensare di fare questo attraverso l'aumento di tasse o attraverso l'aumento dell'indebitamento pubblico. Ci sono risorse interne da cui attingere, quali la spesa pubblica, oltre mille miliardi all'anno con grandi sprechi e la lotta alla grande evasione fiscale, perché proprio dalla lotta alla grande evasione fiscale dove lo Stato può attingere fondi per aiutare poi i più piccoli.